Spesso io mi domando se per venirti dietro sto perdendo la mia reputazione di tremendo, ancora non lo so, son deciso più che mai. Non lo so, son deciso più che mai. Anche questa gara si è conclusa, vittoria per il club sportivo Rani al secondo posto per il club sportivo. Il ritmo è molto alto per entrambi gli equipaggi, vediamo che ha guadagnato un paio di lunghezze il ADGS Vaudry. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Sul club sportivo Rani una perfetta sinergia di forza e acrobazia. Eccolo qua che è arrivato il club Voltri. Brava Voltri! Mentre vediamo... Alla prossima! Abbiamo il club sportivo Rani che sta cercando di guardare la seconda posizione, si sono a secondi, e sono a secondi. Secondo posto per il club sportivo Rani. Ragazzi, grazie a tutti di cuore per aver riportato con voi questa giornata sportiva, vi attenziamo tutti quanti.